L'agnello, biodiversità, qualità e tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo Pastorale, nel convegno rivolto soprattutto ai suoi studenti, promosso dall'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, con il Consorzio di tutela dell'agnello del Centro Italia e con il patrocinio della provincia. Si tratta di formare i nostri ragazzi alla qualità del cibo, una qualità del cibo totale, per contrastare la tendenza all'omologazione dei gusti e delle tendenze in ambito gastronomico. Autorevoli gli interventi, tra questi Aurelio Manzi, botanico e naturalista, Roberto Casaccia, biologo nutrizionista, Gian Paolo Tardella e Nunzio Marcelli, direttore e presidente del Consorzio Agnello del Centro Italia. La nostra montagna non è una situazione di naturalità spontanea, ma è una natura che è stata nel corso dei millenni adeguata a queste esigenze della vita dell'uomo. Per cui la presenza della pecora rimane essenziale per mantenere queste condizioni. L'evento nasce dalla sinergia tra sistema della formazione, mondo della produzione agroalimentare e istituzioni, che condividono l'obiettivo comune di promuovere un prodotto locale come l'agnello, simbolo della tradizione pastorale e mezzo di tutela della biodiversità. È molto importante aprire sempre un dialogo tra il mondo della formazione, il mondo della produzione e le istituzioni. Si tratta di individuare delle modalità di interazione che siano continue a continuative del tempo, che siano consolidate e magari cercando anche nuove forme di scambio di esperienze.